Buongiorno, professor Huck. Buongiorno, ma purtroppo non sono professore. Allora, buongiorno, dottor Huck. Eh, non sono neppure dottore. Beh, buongiorno lo stesso. Penso che molti la conoscano per la legge sull'elasticità che ha preso il suo nome. Potrebbe per favore raccontarci qualcosa sulla sua vita? Ah, sono ricordato per la più stupida delle mie scoperte, appunto la legge dell'elasticità. Penso che anche questo sia stato un complotto di Newton, ma andiamo con ordine. Sono nato nel 1635 nel villaggio di Freshwater, nell'isola di White. Dal porto del villaggio potevo vedere passare le navi che andavano o tornavano da posti lontani, che eccitavano la mia fantasia. Mio padre era pastore, nel senso di pastore anglicano, eh, e avrebbe voluto che non continuassi il suo mestiere, ma a me l'insegnamento religioso, a di la verità, dava il mal di testa. Preferivo esplorare le grotte, studiare minerali, fossili e gli animali. Diceva che non è dottore, quindi qual è stata la sua formazione? Allora, a 13 anni, dopo il suicidio di mio padre, andai a Londra, dove fui preso come apprendista in una bottega di pittura. Era l'epoca di Cromwell, la capitale era triste e puritana. Però anche l'odore delle vernici mi dava il mal di testa, per cui me ne andai e riuscii a entrare in una scuola per studenti bisognosi, grazie al fatto che in una sola settimana ero riuscito a padroneggiare i primi sei libri della geometria di Euclide. Ma non è che stia un po' esagerando i suoi meriti? Curiosamente, questo è un appunto che mi hanno fatto più volte. Comunque, lì studiai matematica, latino, greco, un po' di ebraico e di aramaico, oltre a imparare a suonare l'organo. Ma quello che mi affascinava era il lavoro degli artigiani, imparare da loro. E scogitai più di 30 modi di volare, anche se non abbi mai l'occasione di metterli in pratica. Purtroppo, a forza di stare curvo sul tornio, diventai un po' gobbo, cosa grave, dato che già non ero alto. Lei era molto dotato per il lavoro manuale. Sì, grazie alle mie doti di artigiano, riuscì a entrare in contatto con il circolo degli scienziati dell'epoca, che si riunivano intorno alla figura di John Wilkins. Lui mi introdusse allo studio della botanica, della navigazione, della linguistica. Studiai termometri, i magneti, i moto perpetui, i sottomarini, le macchine volanti, l'anatomia e mille altre cose. In quel circolo c'era anche Robert Boyle, che alla fine mi assunse come assistente del laboratorio. Dovevo assisterlo negli esperimenti sui gas e in quegli alchemici. Esperimenti alchemici? Boyle? A quei tempi, molti scienziati coltivavano passioni assolutamente non scientifiche, come del resto fece anche Newton. Io ero assolutamente contrario a questo approccio quasi magico. Nella mia mente l'alchimia, l'astrologia, la pietra filosofale, erano mali e dovevano essere combattuti. Pensai di andarmene via, ma per fortuna nel 1660 tornò Carlo II e nello stesso anno fu fondata la Royal Society. Boyle riuscì a farmi entrare nella società come curatore degli esperimenti. Ero felicissimo, ma non sapevo quale enorme modo di lavoro mi aspettava. Ero costretto ad assecondare le richieste dei membri della società, oltre che naturalmente a quelle di Boyle. Ci parli della Royal Society? Ah, il motto della società era Nullius in verba, ossia sulla parola di nessuno, e stava a sottolineare la determinazione dei fondatori di stabilire i fatti secondo il metodo sperimentale, ossia alla maniera di Galileo. Tra i compiti previsti dal contratto, vi era quello di ideare e preparare per ogni riunione settimanale tre o quattro nuovi esperimenti su cui attrarre l'attenzione dei soci. Ma la Royal Society era una società pubblica o privata? Privata? Quale differenza, ahimè, dalla ricca Académie Royale des Sciences francese, che stava nascendo a Parigi per il volere di Luigi XIV. Mentre la Royal Society era un organismo privato e autonomo, e comprendeva sia dilettanti che professionisti, l'Académie era un'istituzione di Stato, ricamente finanziata, i cui membri, tutti i scienziati professionisti di nomina statale, avrebbero avuto assegnati eleganti alloggi e ricevuto lauti stipendi. Ma naturalmente sarebbero stati costretti a lavorare tutti i progetti richiesti dal governo, per lo più destinati ad applicazioni pratiche. Noi invece eravamo liberi di studiare quello che volevamo, per lo più sciocchezze. Tanto per darle un'idea, ecco un elenco di argomenti trattati in una tipica seduta. Un aggiornamento sulla produzione di lenti per ottica. Una macchia nella cintura di Giove. Una storia sperimentale del freddo. Osservazioni ed esperimenti sulla rugiada. Pesca di balene alle isole Bermuda. Il successo degli orologi a pendolo per misurare la longitudine in mare. Il giudizio di Monsieur Azou sull'apertura degli obiettivi rispetto alla lunghezza dei telescopi. Una relazione su persone uccise da vapori sotterranei. Osservazioni di una testa mostruosa. Osservazioni anatomiche su del latte trovato nelle vene invece del sangue e su erba trovata nei polmoni di alcuni animali. La descrizione di un vitello davvero mostruoso. Una relazione su alcune straordinarie maree nelle isole incidentali della Scozia. Un metodo per uccidere i serpenti a sonagli. Alcuni degli esperimenti che dovevo fare per la Royal Society erano bizzari e crudeli. Dovetti aprire il torace di un cane per vedere quanto poteva sopravvivere pompando aereo nei polmoni. Altri esperimenti a cui mi rifiutai di prendere parte riguardarono l'iniezione di sangue di pecore e di vitello in dei pazienti volontari per vedere cosa sarebbe successo. Purtroppo la vita frenetica a cui ero costretto non mi permetteva quasi mai di portare a compimento le mie invenzioni. Per cui molte delle mie scoperte sono state poi attribuite ad altri. E lei fece da assistente di laboratorio per tutta la vita? No, nel 1665 ero finalmente diventato professore di geometria e poco prima pubblicai il mio primo libro, Micrografia, dove descrivevo le mie esperienze al microscopio, corredandole con straordinari disegni di insetti ed altri oggetti di minuti dimensioni. Lo avevo scritto in uno stile semplice, alla maniera di Galileo, accessibile anche a chi non avesse le basi scientifiche, ma fosse in grado di leggere Shakespeare o la Bibbia. Un testo notevole, penso. Ah, un vero successo editoriale. In Micrografia avevo riportato l'osservazione di frange colorate nei vetrini utilizzati per i miei studi. A questo proposito, ricordo di aver scritto I colori appaiono in forma agli anelli circolari e avevo supposto che la luce fosse un fenomeno ondulatorio. Mai avrei immaginato che questi sarebbero passati alla storia come gli anelli di Newton e che inoltre lui, Newton, mi avrebbe severamente contraddetto circa la mia interpretazione ondulatoria del fenomeno luminoso. E naturalmente non potevi mai venire a conoscenza del fatto che i posteri avrebbero battezzato Pendolo di Newton una notissima serie di biglie d'acciaio appese a dei fili con cui io avevo studiato le modalità degli urti elastici tra corpi solidi. Lei è conosciuto anche come architetto? Ah, gli anni 1665-1666 sono stati fondamentali per me. Nel primo, nel 1665, scoppiò la peste a Londra e quindi poteva avere un po' di riposo dato che tutti i membri della società se ne erano scappati in campagna. L'anno seguente fu quello del terribile incendio. La capitale inglese era una città di costruzione di legno impermeabilizzata con il catrame. C'era da domandarsi perché non fosse bruciata prima. Sebbene l'80% della città fosse andato distrutto e non meno di 100.000 abitanti fossero in un'assistenza a casa quasi miracolosamente soltanto 16 persone avevano perso la vita almeno secondo le stime ufficiali in realtà pare che molti fossero stati centinaia se non migliaia. Andranno bruciati circa 13.000 edifici abitativi ben 90 chiese, 4 ponti sul Tamici e una grande quantità di costruzioni pubbliche. L'antica cattedrale di St. Paul quella dalla cui sommità io avevo fatto esperimenti sul peso dei gravi venne completamente distrutta. La pianificazione della ricostruzione di Londra fu affidata da Carlo II a Christopher Wren e a me. Tra i grandi palazzi io rimisi in piedi quello di Lady Burlington, la Montagu House e il Collegio Real di Medicina. Per la cattedrale di St. Paul il mio principale contributo fu la soluzione adottata per la cupola costituita da tre volte coassiali tenute a distanza da un traliccio di barre metalliche. La volta più elevata e più snella aveva lo scopo di impressionare la visione dall'esterno. La falsa cupola intermedia non era visibile e aveva una funzione strutturale e era fatta come una catenaria mentre le altre erano sferiche. La volta inferiore era quella che si vedeva stare dall'interno della chiesa e assolveva quindi una funzione puramente decorativa. E qual è l'edificio di cui va più fiero? Ah, sicuramente The Monument ovvero una colonna dorica cava di quasi 5 metri di diametro e alta una settantina di metri. Nelle mie intenzioni la colonna doveva prestarsi ad esperimenti scientifici ed ospitare un telescopio zenitale atto a mostrare in pieno giorno le stelle sulla verticale del sito. La colonna avrebbe fatto le veci di un profondo pozzo in cui l'osservatore, collocato sul fondo guardava il cerchio di cielo dalla bocca con un'enorme attenuazione della luce solare proveniente dalla volta celeste. Bello! E di Newton si sa che era un misogeno che non ebbe mai amori né maschili né femminili. E lei? Al contrario, io amavo la compagnia frequentavo le coffee house insieme ai miei amici primi fra tutti Christopher Wren e il più giovane Edmund Halley e avevo ottimi rapporti con le donne in particolare ne intrattenne regolarmente con le mie domestiche e poi con la mia nipote Grace con la quale vi si muore uxorio per anni studiavo il sesso come tutto il resto in maniera scientifica. Nei miei appunti si leggono dettagliate e colorite descrizioni dei miei incontri sessuali e dei miei orgasmi che nel diario segnavo espressamente con il simbolo astrologico dei pesci quello associato a Venere e a Cupido. Insomma, andava tutto bene. E purtroppo la sorte invidiosa era in agguato. Una sera di maggio del 1676 fu invitato da alcuni amici ad assistere al Dorset Garden Theatre a una rappresentazione dal titolo The Virtuoso. Nella commedia veniva messo in burla uno scienziato una specie di sintesi dei vari ricercatori della Royal Society ma i cui tratti principali erano esattamente corrispondenti alla mia figura con tutti i difetti che mi venivano a ragione o torto ascritti. Non mancavano anche riferimenti alla mia vita privata. Ne sortiva un quadro della Royal Society come di un gruppo di perditempo e meriti spacconi incapaci di produrre qualcosa di utile per la comunità. La commedia prendeva di mira le trasfusioni di sangue nei cani tra specie diverse come tra uomini e pecore. Ne uscì distrutto. E poi arrivò Newton. Il suo acerrimo nemico. Beh, a dire la verità per un certo periodo sembrava che potessimo andare d'accordo. Certo, Newton era un seccente e vendicativo e non voleva riconoscere che in molti casi io avevo dato l'idea di base anche senza svilupparla fino a un fondo. Avevo per esempio detto che le orbite dei pianeti erano date dal bilanciamento tra attrazione gravitazionale e forza centrifuga e che probabilmente la gravità decresceva con il quadrato della distanza. Avevo anche provato a fare delle misure nella cattedrale di St. Paul come ho detto ma gli errori di misura erano troppo grandi. Io non mi facevo mai scrupolo di parlare delle mie scoperte a tutti gli altri membri della società mentre Newton teneva tutto nascosto e pubblicava solo i risultati definitivi. Comunque, potevamo anche andare d'accordo se non fosse stato e che a un certo punto Newton, instigato senz'altro da quelli che mi odiavano nella società esplose e da lì cominciò a infangarmi a più non posso. Quando morì, nel 1703 Newton diventò segretario della società e fece di tutto per rimuovere il ricordo di ogni mio contributo e per farmi passare come un ezzecca garbugli disonesto. Però adesso la sua figura viene almeno in parte riabilitata e il suo merito riconosciuto. Ma però ho dovuto aspettare 300 anni e chissà quanto dovrò aspettare ancora perché mi venga riconosciuto il giusto merito di aver inventato l'atelier della gravitazione l'ottica, la microscopia l'atelier dei gas l'invenzione del cronografo del cannocchiale e tante altre cose. Sì, certo. Buona fortuna. Arrivederci, signor Huck. Arrivederci. Ho esagerato come al solito?